in un monastero dove ci sono frati e suore due frati decidono di andarsi a fare la doccia si che dè vanno tutti e due in bagno si levano la tunica ognuno entra sotto una doccia e a un certo punto uno fa l'altro oh dammi il sapone no ma io non l'ho mai preso pensavo lo pigliassi te eh ma io pensavo tu lo pigliassi te e fa l'altro e allora mi si fa fa senti facciamo sì e anche se so nudo esco io tanto la mia camera è qui davanti attraverso il corrido e ci sono chi vuole mi veda va bene vai si che dè questo tutto ognudo tutto di cosa ta 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 chiappa attraverso si guarda il corrido non c'è nessuno via boom chiappa entra in camera riesce dalla camera mentre riesce con le due saponette in mano arrivano tre suori si che dè quello e si paralizza così tutto ognudo per un fa si rionosce si che dè le tre suori si avvicinano lo guardano cos'è ma un lo so io sorella un lo so ma sorella nemmeno io intanto dè questo è ancora tutto sì a un certo punto una delle tre suori gli afferra la fava e questo dè e lascia la saponetta oh guardate è cascata una saponetta fa la seconda suora aspettate aspettate provo anch'io gli ritira la fava e questo lascia la seconda saponetta fanno le suori ah ma allora questo è un distributore di saponette e la terza suora aspettate la provo anch'io si che dè gli tira la fava gli tira la fava gli tira la fava nemmeno la dè c'è piena si che tira 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 a un certo punto fa la terza suora oh oltre le saponette a forza gli tira sorta anche il sapore liquido ciao